Jean Sieberg, Parigi, 1960. Sugli schermi di molte sale cinematografiche scorrono le immagini di una giovane in jeans e maglietta bianca che avanza sfrontata sugli Champs-Élysées con una pila di giornali sotto il braccio. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! È Jean Sieberg, attrice americana appena ventenne che, nel film di Goddard, Fino all'ultimo respiro, recita il ruolo di Patricia, una giovane indipendente romantica. Il suo viso, il suo corpo, le sue movenze diventano di colpo un nuovo simbolo. Scorrono le immagini e la sua esile figura campeggia sul grande schermo con le copie dei giornali che distribuisce ai passanti, mentre percorre instancabilmente i campi elisi da cima a fondo. La sua vita, dopo tutto, sta tutta in questo fotogramma. Doveva averlo capito anche lei, perché spesso ripeteva Tra una carriera ricca di successi e una vita avventurosa, io scelgo la vita avventurosa. Ho capito che meno cosa prendo sul mestiere dell'attore, più imparo a vivere. Ciò che posso fare è recitare e vivere allo stesso tempo. Nell'estate del 1956, appena a diciassettenne, Gene Seberg aveva lasciato la casa dei suoi genitori nello Iowa per trasferirsi a Hollywood, dove partecipò al provino per interpretare la Giovanna d'Arco dell'omonimo film diretto da Otto Preminger. A spingerla fin lì c'era stata la sua grande determinazione ed una voglia matta di diventare famosa. Lessi su un annuncio che cercavano una ragazza per interpretare quel ruolo. Mi ritrovai all'hotel Sherman di Chicago, in mezzo a più di tremila candidate conciate nei modi più strani. Dovevo portare due monologhe di Bernard Shaw, ma io improvvisai. Recitai la commedia dell'arte, dissi al regista che non avevo studiato il copione perché i miei genitori erano troppo poveri e avevano ridotto al minimo le spese per permettermi il viaggio e l'audizione. Mi guardò in modo strano e poi scoppiamo a ridere entrambi. Una settimana dopo ero a Parigi. Il suo talento emerse da subito. Gene non si lasciava intimorire nemmeno dalle scene più impegnative, come quella che la voleva incatenata per ore ad un palo per provare la scena filane del film, in cui le fiamme dovevano salire sul rogo fino a divorarla. Fuori dal set, Gene conobbe da vicino la vita nella capitale francese, la moda, i caffè, i teatri, gli ambienti mondani. E un giorno, mentre passeggiava nel quartiere degli artisti, incontrò Pierre Genoil, l'uomo che più tardi diventò la sua guardia del corpo, ma anche l'amico, il confidente. Pierre non dimenticò mai quel primo incontro. Era all'estate del 1956 e io tenevo un'esposizione di quadri alla galleria Drone David, Avenue Matignon. Negli stessi locali erano esposte le tele di Bernard Buffet, dedicate alla figura di Giovanna d'Arco. Vidi Gene entrare. Era timida, minuta. Stava con un amico americano. I capelli corti le lasciavano scoperta la nuca. Ricordo che indossava dei jeans e una maglietta a maniche corte. Aveva delle braccia sottilissime. La riconobi subito perché la sua faccia era già su tutti i giornali. Era descritta come la giovane speranza del cinema statunitense. Fu lei a rivolgermi la parola per prima. Li ha fatti lei questi? Sì, li ho fatti io. Io in realtà sono venuta per vedere le opere di Buffet. Ma la prego, mi spieghi questo quadro, mi attira particolarmente. Le dissi che parlava degli zingari, popolo errante, costretto a vagare senza tregua per cercare una terra ospitale. Io ero uno di loro. Gene mi guardava con rispetto e ascoltava attenta le mie parole. A un certo punto mi disse In America gli indiani sono come i gitani. Vengono deportati e uccisi. Oppure muoiono suicidi ancora giovani per sfuggire alla repressione dei bianchi. Voglio comprare la sua tela, a patto che mi scriva la dedica. Su quel quadro Pierre le scrisse Per l'attrice Gene Seberg, l'amica dei gitani. L'anno successivo Gene era ancora a Parigi per lavorare con lo stesso regista che la volle per interpretare Cécile, l'attrista e romantica protagonista di Bonjour Tristesse. Ancora un ruolo impegnativo per la giovane attrice, che doveva questa volta confrontarsi con una storia di perversioni adolescenziali. Al termine delle riprese si sentiva sfinita, svuotata e decise di trascorrere due mesi sulla costa azzurra, dove conobbe François Moreuil, eccentrico rappresentante del cinema europeo d'avanguardia. Lui aveva 33 anni, lei 20. Lo sposò. A Parigi intanto dilagava la nouvelle vague, che portava sullo schermo un nuovo modo di vedere la vita. E grazie a François, Gene poteva conoscere il regista Jean-Luc Godard, uno dei massimi esponenti di quella nuova ondata culturale. Così nacque Patricia, la ragazza che distribuiva i giornali sugli Champs-Élysées. A suo fianco, nel film, l'attore Jean-Paul Belmondo. Jean-Luc voleva che io, cioè Patricia, rubasse al suo fidanzato del denaro dopo averlo denunciato alla polizia. Mi disse anche che avrei dovuto recitare delle scene senza vestiti. Rifiutai. Se voleva che continuassi a lavorare con lui, doveva rispettare le mie scelte e modificare la storia. L'esperienza con Godard fu determinante. In breve, infatti, Jean Seberg divenne una nuova star del cinema. Sotto l'occhio esperto del regista francese, seppe dare vita a un personaggio che assomigliava incredibilmente a lei stessa. Proprio questa somiglianza era il motivo per cui Godard l'aveva scelta. Jean era terribilmente vicina all'idea che avevo della protagonista del film. Il suo accento americano, quell'aria indipendente, ambigua e inconsapevolmente sexy. Quando recitava, non aveva mai un copione preciso. Improvvisava le battute. Io le chiedevo di parlare e muoversi, come avrebbe fatto Patricia. E lei? Lei era semplicemente Jean. Ben presto, lo spirito libero e anticonformista, tipico della cultura ribelle degli anni Sessanta, prese le sembianze di questa ragazza americana fuggita in Europa. Jean Seberg divenne il simbolo di una nuova femminilità, genuina e sfrontata. Il suo modo di vestire e atteggiarsi influenzava le mode. Lo sguardo alla Jean Seberg, i capelli alla Jean Seberg. Era ammirata dagli uomini e imitata dalle donne. Guidata dagli applausi di un pubblico sempre più numeroso, Jean si spostava da un set all'altro, godendosi l'inatteso successo, fin quando una sera conobbe Romain Garin. Ero a Los Angeles con François, che aveva insistito per seguirmi sul set di un film che stavo girando. Decidemmo di far visita al consolato francese e lasciamo lì un nostro biglietto da visita. Due sere dopo eravamo a cena con Romain Garin, ambasciatore francese in America. Romain, di origine franco-russa, era uno scrittore, ma anche diplomatico e generale dell'esercito francese al servizio del governo de Gaulle. Tra lui e Jean nacque subito un'attrazione che si sarebbe trasformata in passione travolgente, poi in ossessione. A prima vista Romain aveva l'area di un orso, con quel suo modo di muoversi goffo, appesantito dall'uniforme, ma sul suo viso tenebroso brillavano due occhi di un azzurro limpido. Io conoscevo quello sguardo, esprimeva l'angoscia di un'anima solitaria e vagabonda. Romain era ebreo e anche se riusciva ad adattarsi in qualsiasi paese andasse, non si sentiva mai a casa. Il giorno dopo, lui andò a trovarla sul set. Parlarono a lungo della loro vita. Romain aveva avuto un'infanzia terribile. Aveva vagato per diversi paesi insieme alla madre senza riuscire a conoscere il suo vero padre. Garry, infatti, non era il suo vero cognome. L'aveva scelto perché il russo voleva dire brucia. Ascoltandolo, mi chiedevo se il fuoco che gli ardeva dentro avrebbe riscaldato anche me. Ma anche Romain rimase affascinato dallo spirito avventuroso di Jean. Fin dal primo incontro pensai che ne avrei fatto la protagonista di un mio romanzo. Esprimeva perfettamente quella leggerezza tipicamente americana che sorvola la realtà. Al mio fianco, Jean perse rapidamente il suo spirito idealista e naif. Una settimana dopo, condividevano l'appartamento parigino in Rue du Bac. Entrambi avevano accantonato i loro rispettivi matrimoni con la stessa rapidità con cui avevano deciso di vivere insieme. Jean ottenne subito il divorzio da François, mentre la moglie di Romain non la consentì alla separazione. Ma a complicare la situazione arrivò anche la gravidanza di Jean. Non dissi ai miei genitori che ero incinta di lui. Erano troppo puritani e non avrebbero accettato che avessi un figlio da un uomo che non era ancora mio marito. Quel bambino nacque nel luglio del 1962 e lo chiamarono Diego Garry. Pochi mesi dopo, Jean era di nuovo sul set. Presseguitata da una folla di fans e giornalisti, pensò di chiedere aiuto a Pierre Genel, il pittore che aveva conosciuto anni prima. Fu così che il gitano divenne la sua guardia del corpo e il suo amico più fidato. Quando mi chiamò, non potevo credere che si ricordasse di me. Mi disse che la produzione del film che stava girando le aveva assegnato dei gorilla. A lei voleva un amico vicino. Voleva me. Io la accompagnavo dappertutto, ma era lei a non staccarsi da me. Sembrava che fosse lei la mia guardia del corpo. Nel 1964, Jean si trasferì in Svizzera per recitare al fianco di Warren Beatty in Lilith, del regista Robert Rossen. Fino ad allora consideravo Robert una specie di Humphrey Bogart della regia, un duro, un fanatico delle scazzottate. Invece era un uomo complicato e angosciato. Credo che la causa fosse da cercare nel trauma del maccartismo che aveva contagiato tutto il mondo. Un giorno, Robert stava per imbarcarsi su un volo diretto in Inghilterra. Venne bloccato per paura che potesse rivelare informazioni sulla politica statunitense. La cosa lo cambiò profondamente. Divenne più introspettivo, solitario, riflessivo. L'America degli anni Sessanta non era infatti solo il paese dei sogni e della libertà. Era anche l'America sospettosa, quella dei servizi segreti che controllavano e minacciavano chiunque fosse ritenuto pericoloso per la sicurezza del paese. La giovane attrice avvertiva fortemente quell'atmosfera. C'è una specie di angoscia. Si sente nell'aria. Ora è troppo presto per giudicare quello che ci sta accadendo, ma non bisogna prenderlo con leggerezza. Nonostante il film di Ross non avesse ottenuto il successo sperato, Jean ritenne fondamentale quell'esperienza che l'aveva fatto uscire dai ruoli fino a quel momento interpretati. Mi sentiva ancora troppo genuina, troppo figlia della Terra, troppo vicina al personaggio della contadinotta che Otto Preminger mi aveva costruito per Giovanna d'Arco. Solo Godard era stato capace di farmi abbandonare quello stereotipo per costruirmi una presenza brutta, scomoda, tipica dei suoi personaggi. Interpretare Lilith era come portare avanti la storia di Patricia. Ancora una volta, attrice e personaggio condividono lo stesso corpo, accomunate dalle stesse angosce. Lilith è una donna fragile e verile allo stesso tempo. Per capire le ragioni della sua pazzia, Jean si reca spesso negli istituti per malati mentali. Li osserva, parla con loro. La follia del mio personaggio non aveva nulla degli stereotipi. Era una follia vera. Un giorno andai a trovare una giovane donna che era stata reginetta di bellezza a scuola. Mi accolse nella sua stanza. Era nuda, ma nascondeva il corpo e il viso sotto dei veli. Si muoveva come una belva e non mi rivolse mai una parola. Quando mi alzai per andarmene, lei si voltò dandomi le spalle, allungò il braccio dietro di lei in segno di saluto e tornò a sedersi. Qualche mese più tardi, mentre giravamo l'ultima scena del film, mi ricordai di lei e cercai di imitarla. Il demone della follia cominciò a perseguitare Jean non solo sul set. Per di più, il rapporto con Romain si faceva sempre più difficile e lei trovava spesso conforto fra le braccia di altri uomini. Pierre, la sua guardia del corpo, l'accompagnava durante quelle fughe e nei suoi racconti la descrive come una statuetta di porcellana pronta a rompersi da un momento all'altro. Poi Romain la trattava male, come un oggetto. Sembrava divertirsi a distruggere la sua bellezza. Quando scrisse il suo primo film si ispirò a lei e sempre a lei lo fece interpretare. Sembrava di assistere alla storia del loro matrimonio. Lei instabile, ninfomane, vittima delle torture del marito. Lui sadico e violento. Il film venne manomesso dalla censura e dopo quell'esperienza pur rimanendo a vivere con lui Jean si allontanò affettivamente da Romain. Sono disgustata dal ruolo che mi ha fatto interpretare. Le scene d'amore lo eccitano. Spesso è ubriaco e mi racconta delle cose ignobili. Per dimenticare i disastri della sua vita si buttò in ogni genere di avventura. Partecipava a tutti gli appuntamenti mondani, si circondava di persone di ogni razza e cultura a cui prometteva favori e aiuto. La sua vita ad un tratto sembrava perfetta. Solo Pierre che le rimaneva sempre accanto conosceva la verità. Anche se era una star si sentiva smarrita in varia dei cattivi venti. In quel periodo cominciò a bere e a imbottirsi di tranquillanti. Era spesso depressa, così intrattabile che anch'io ostentavo riconoscerla. Una sera rientrando a casa, Romain la trovò in compagnia di un gruppo di sconosciuti. Chi diavolo sono questi? Sono miei amici. Falli sparire, non voglio estranei in casa. Aspetta, Romain, lascia che te li presenti. Questo è Hakim Jamal, fa parte delle Pantare Nere, sai, conosce Malcolm X. Romain la affarrò per un braccio e la trascinò nell'altra stanza. Jean, che cosa stai combinando? Cosa ci fai con questa banda di delinquenti? Sono miei amici, tu non capisci! Ma non vedi che ti usano? Proprio tu! Vieni a darmi lezioni, povero francese bastardo! Anche nel tuo paese ci sono persone sfruttate e tu vieni a rimproverarmi perché aiuto quelli che cercano di cambiare tutto questo! Sei un'illusa! Fa come vuoi, ma non coinvolgermi nei tuoi traffici con dei bocciosi che giocano a fare i rivoluzionati! Dopo quel giorno Jean abbandonò definitivamente l'appartamento in Rue du Bac Si trasferì addirittura a Los Angeles Ormai il suo coinvolgimento nella causa dei neri d'America era sempre più stretto Finanziava i loro movimenti e nelle occasioni pubbliche non esitava a farsi portavoce della loro causa Ma quelle amicizie pericolose la misero nel mirino dell'FBI Il suo nome ritornava frequentemente nei carteggi segreti del Federal Bureau of Investigation 15 maggio 1969 Edgar Hoover All'inizio quando se ne accorse la cosa non la preoccupò anzi ci rideva sopra Ehi gitano lo sai che servizi segreti registrano le mie telefonate e seguono tutti i miei movimenti mi hanno definita un'attrice perversa Jean Seberg non solo continuò a frequentare i suoi amici ribelli ma divenne anche l'amante di uno dei maggiori esponenti delle pantere neri con lui rimase per un periodo alle antille sono venuta su quest'isola per comprare la mia tomba quando sarò morta voglio guardare il mio paese da qui potrò gridare in faccia l'America il suo razzismo proprio stando su quest'isola immobile in mezzo a tanti neri appena tornata a Parigi Jean si precipitò da Pierre doveva dirgli qualcosa di importante Gitano aspetta un bambino non lo sa ancora nessuno solo tu ora non l'hai già detto al tuo amichetto delle pantere nere? no perché non è il suo non lo potrebbe essere neanche se volesse Masai è sterile è successo prima con uno studente indiano che ho conosciuto mentre ero in Messico è lui il padre era talmente felice che volle comunicare la notizia anche a Masai l'FBI registrò la telefonata ma non comprese come stavano realmente le cose e usò l'informazione per screditare l'attrice è scritto a chiare lettere negli archivi segreti 27 aprile 1970 abbiamo ricevuto istruzioni per recapitare una lettera anonima alle redazioni di giornali statunitensi e rivelare l'origine della gravidanza dell'attrice bianca Jean Seberg il padre sarebbe membro del partito estremista delle pantere nere aspettiamo a procedere affinché la donna sia impossibilitata a nascondere o interrompere la gravidanza qualche mese più tardi Newsweek e i Los Angeles Times pubblicarono la notizia la gravidanza dell'attrice attribuita a un noto esponente delle pantere nere dimostrava il suo pieno coinvolgimento nelle violente lotte che stavano dilaneando il paese Jean cadde in uno stato di depressione e paranoia i complotti che l'FBI tramava alle sue spalle erano divenuti una fissazione credendo di dominare quella crescente angoscia si imbottiva di alcol e tranquillanti passando poi da una clinica all'altra per disintossicarsi un giorno Pierre la raggiunse a Ginevra dove era appena stata ricoverata la trovai raggomitolata tra lenzuola bianchissime bianche come era lei ai piedi del letto vidi una rivista con la sua foto in copertina quando mi avvicinai lei prese la mia mano nella sua e disse Gitano sei qui avrei voluto prenderla tra le mie braccia ma un medico entrò proprio in quell'istante signore mi scusi le devo chiedere di uscire ho bisogno di parlare con la paziente no dottore lo lasci rimanere è un amico come vuole signora le devo purtroppo comunicare che la piccola Nina non ce l'ha fatta sembrò non esserci reazione alcuna sul volto di Gine aveva perso la bambina che portava in grembo e lei nemmeno una lacrima restò così impassibile per qualche minuto io non avevo la forza di parlare mi limitavo a guardarla con tenerezza e a tenerle la mano poi all'improvviso iniziò a dimenarsi si sollevò afferrò il giornale che si trovava ai piedi del letto e lo strappò in mille pezzi lo sapevo lo sapevo sono stati loro ad ammazzarla mi ho visti quando sono arrivata qui c'erano agenti della CIA e dell'FBI loro sono qui per sbiarmi Gine non si sbagliava del tutto come dimostra una comunicazione riservata scritta quello stesso giorno dal direttore dell'FBI vi informiamo della nascita prematura e del decesso del figlio di Gine Sieberg accanita sostenitrice del partito estremista delle pantere nere attrice bianca che definiamo sessualmente perversa padre del bambino è XX membro delle pantere nere Sieberg attribuisce il fatto all'articolo comparso sulla rivista Newsweek appena un giorno dopo la morte della piccola Nina Gine uscì dalla clinica insieme a Pierre fu lui ad accompagnarla a vedere il corpo della bambina l'avevano l'avevano messa in una barra minuscola grande quanto una scatola da scarpe intorno a lei c'erano solo fiori bianchi Gine mi chiese di prenderle in braccio per scattarle una foto poi se ne fece fare una anche lei ero impietrito sulla strada del ritorno mi mostrò la lettera del medico che aveva esaminato il corpo di Nina neonato di sesso femminile sul pigmento della sua pelle non è possibile pronunciarsi con esattezza ti sembra possibile è l'FBI che ha impedito che la verità venisse fuori Nina era indiana ma la campagna di discredito aveva raggiunto il suo scopo Gine era sempre più sola e depressa e anche se trovò la forza di tornare sul set la sua salute fisica e mentale era ormai minata continuava a sentirsi perseguitata non solo dall'FBI ma anche dal marito Romain che adesso le impediva di vedere il figlio Diego accanto a lei c'era rimasto ormai soltanto la fedele guardia del corpo Pierre deve aiutarmi l'FBI mi vuole morta devono avermi impiantato dei microtrasmettitori dietro le orecchie per ascoltare le mie conversazioni non si vedono ma ci sono devi proteggere Diego perché Romain si è messo d'accordo con loro per portarmelo via pochi giorni dopo Gine era nella sua camera d'albergo quando il telefono squillò una voce dall'altra parte del filo minacciava di rapire suo figlio Gine terrorizzata uscì sul terrazzo per chiamare Pierre che stava giocando nel parco col bambino l'uomo non fece nemmeno in tempo a capire cosa stesse accadendo Gine è il 29 agosto del 1979. L'estate sta per finire e a Parigi si respira già aria d'autunno. Jim Seberg e il suo nuovo compagno, l'attore algerino Ahmed, escono per andare al cinema. Al ritorno, approfittando di un momento di solitudine, telefona al marito. Romain, sono io. Devo parlarti. Senti, non ho tempo adesso. Richiamami domani. Aspetta, ascoltami. È importante. Ma l'uomo ha già riattaccato. Insieme a lui c'è Jacqueline, una cantante. Una volta era amica di entrambi. Era Jim. Deve essere un'altra delle sue crisi. In quel momento risquilla il telefono ed è Jacqueline a rispondere. Jim la riconosce subito oppure è talmente fuori di sé che nemmeno sa con chi sta realmente parlando. Subito infatti la investe con queste parole. Devi aiutarmi. Sono emischiate in un giro di droga algerino. È il più grosso traffico dell'Africa del Nord. Di a Romain di avvisare Jacques Chirac. Possono uccidermi quando vogliono. Aspetta, Jim, stai calma. Di cosa parli? Che significa? Lasciala stare, è pazza. Romain afferra il telefono e riattacca per la seconda volta. Dall'altra parte del filo, Jim continua a urlare. Poi scaraventa il bicchiere che è in mano contro il muro e scoppia in un pianto disperato. Meggio per voi. Io mi avevo avvertito. Mancano pochi minuti alla mezzanotte. Prima di andare a dormire, Jim prepara un bagno caldo. Sente Ahmed rientrare, lo saluta e aspetta che si addormenti. Quando è sicura che non la possa sentire, si mette addosso una coperta ed esce chiudendo piano la porta alle sue spalle. Si avvia per i viali della città, a quest'ora semideserti. Passeggia sola, incerta, a piedi nudi, con una bottiglia d'acqua sotto il braccio. Percorre un lungo tratto di strada, passa davanti a due ambasciate. Jim si guarda intorno e si domanda perché tutti dormano. Chi ci sarà nei loro sogni? Poi si perde per sempre nella no. Il corpo di Jim Sieberg venne ritrovato dieci giorni più tardi. Era all'interno della sua auto, avvolta in una coperta. Fu dichiarata morta a causa di un'overdose di alcol e barbiturici. Suicidio. Ma il medico, che ne esaminò il cadavere, disse che l'alcol presente nel sangue non le avrebbe permesso di fare un solo passo. Doveva quindi esserle stato iniettato per endovena. Al mistero legato alla tragica fine dell'attrice si aggiunge quella del marito, Romain Garry, morto l'anno dopo con un colpo di pistola alla tempia. Anche se il biglietto che lasciò scritto dovrebbe aver spazzato via ogni dubbio. Nessun rapporto con Jim Sieberg. I patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove. Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati a questa puntata della storia in giallo che vede come protagonista l'attrice Jim Sieberg che concluse drammaticamente la sua giovane vita rinchiusa nella sua auto imbottita di alcol e barbiturici. Con modalità diverse ma altrettanto drammaticamente una fine a cui sono andate incontro molte star del cinema. Quel mondo così affascinante e pieno di insidie soprattutto per chi lo vive da protagonista. Per parlare della storia che vi abbiamo proposto oggi giochiamo in casa. Avendo Italo Moscati come regista ho pensato subito di approfittarne. Non è vero Italo? Dopotutto tu alla storia in giallo nasci come ospite. Assolutamente sì. Quindi essendo stato promosso a regista sono molto contento di questa esperienza di cui ho avuto l'opportunità di fare grazie a te e agli amici della trasmissione ed eccomi qui ricondotto alla ruolo di ospite molto gradito da me. Allora Italo innanzitutto direi che dovremmo fare un distinguo fra la donna e l'attrice anche se poi le due immagini tendono a sovrapporsi. Partiamo dall'attrice perché John Sieber nasce quasi prima come attrice che come donna visto che si trovò catapultata nel mondo del cinema sulle 17 anni. Assolutamente e poi con un ruolo molto impegnativo, il ruolo di Giovanna d'Arco. Vogliamo ricordare il famoso film di Dreyer con la Franchetti, un film che è entrato nella storia del cinema, le cui immagini ancora sono stampate nella mente non solo degli spettatori più anziani. Un volto eratico, un bianco e nero straordinariamente incisivo. Invece Otto Preminger, il regista di Giovanna d'Arco, la proiettò in un film a colori di tutt'altro tipo, certamente meno rigoroso, ma ugualmente interessante perché il personaggio di Giovanna d'Arco non stanca nel tempo, diventa un po' la campionessa di una rivendicazione femminile in termini religiosi, in termini totalmente religiosi, antropologici. E quindi vedere questo volto di John Sieberg, ragazzina, giovane, molto diversa dalla Franchetti, di colori diversi, bionda, con gli occhi azzuri, portava avanti questo mito, ma certamente in termini oldivudiani, spettacolari, ben lontani dal rigore e dalla classe del vecchio Dreyer. Vogliamo parlare adesso del ruolo di Patricia, per il quale Godard la scelse proprio perché lei incarnava perfettamente la protagonista del suo film. Ecco, la storia di John Sieberg è la storia di una ragazza giovanissima, abbacciata dal successo, che segue l'itinerario di tantissime ragazze che vengono in Europa, in particolare in Francia e in Italia, per non soltanto studiare le lingue, ma per entrare nella cultura, in quel fascino che loro sentono potente nelle vecchie capitali europee. Quindi Patricia non era altro che una di queste ragazze che a volte vengono qui cercando lavoro per pagarsi anche gli studi in Italia. È comunque un lungo soggiorno in cui sperimentare tutto ciò che è di romantico. Ripeto, romantico la loro mente suggerisce sulla base di romanzi, conoscenze cinematografiche o televisive. Quindi Patricia era esattamente una di queste ragazze. È un po' speciale perché era già una diva del cinema e perché era stata scelta da Jean-Luc Godard uno dei registi più severi e duri di tutta la cinematografia europea ed era, con François Truffaut, il regista e ispiratore della Nouvelle Vague. A vent'anni Jean-Siberg era già famosa e, suppongo, anche ricca, presto per saper gestire fama e danaro in quantità. Molti poi forse si approfittarono anche di lei. Devo dire che gli attori sono delle pedine nelle mani dei registi e soprattutto dei produttori. Si può anche ricordare cos'è stata, per esempio, la Judy Garland negli anni 30, una ragazzina che cominciò a fare nel cinema che veniva drogata letteralmente per svegliarsi presto alla mattina e poi drogata alla sera perché potesse dormire le ore sufficienti che le consentissero di riprendere il lavoro, come in una specie di catena di montaggio. Un vecchio cinema hollywoodiano che certamente Jean-Siberg non ha conosciuto direttamente, ma la macchina dei sogni del cinema è qualcosa che a volte ha degli aspetti stritolanti. Lavorare con Goddard significa cambiare totalmente il sistema perché Goddard non aveva gli stessi metodi olivudiani, dei registi olivudiani, però certamente aveva una severità e era soprattutto molto risoluto nella scelta di ciò che dovevano essere gli attori nei suoi film, delle pedine intelligenti, delle persone che vivevano storie che lui scriveva in cui la sua personalità di autore doveva primeggiare. Jean-Siberg era una ragazza molto graziosa come lo era ad esempio Audrey Hepburn, un tipo di bellezza però molto lontana dagli stereotipi di attrice olivudiana, fatale, sexy e prorompente perché secondo te divenne addirittura un modello da imitare, perché le ragazze la vedevano più simili a loro, una bellezza più accessibile. C'è una discriminante netta tra le cose che tu dici, appunto tra le dive americane prima di una certa data che dirò e quelle invece venute dopo. La data è la morte di Marilyn Monroe. Marilyn Monroe come Brigitte Bardot segnano il cambiamento, le dive non sono più Greta Garbo, non sono neanche Rita Hayward che pure era una donna di grande bellezza e molto vistosa. Diventano le attrici, soprattutto nel cinema europeo ma anche in quello americano che vuol piacere a un pubblico vasto, gente comune, personaggi che si possono trovare dovunque e quindi Jean-Siberg con questo suo aspetto un po' spaventato come Audrey Hepburn, come dicevi tu giustamente, era un personaggio molto adatto ad incarnare persone in cui si potevano riflettere le ragazze americane. Già il suo fisico non era certamente prorompente, era esile e poi comunque sia la sua mobilità negli occhi, la sua intelligenza, la sua sensibilità sembravano appunto adatte a rappresentare e a innescare un processo di identificazione senza il quale molto cinema contemporanea non esisterebbe. Secondo te ad un certo punto avvenne, come spesso accade, una sorta di sdoppiamento della sua personalità? Jean non sapeva più chi era lei e chi era l'attrice. Mi venne in mente ad esempio quando si dedicò da vicino allo studio dei comportamenti dei malati di mente per poi imitarli nell'interpretare un ruolo cinematografico? Beh, diciamo che gli attori americani seguono una scuola che è quella dell'acto studio che si anche non hanno frequentato, ha dettato un po' legge nella recitazione in America. Gli attori comunque si hanno capito che dovevano, per essere corrispondenti a un modo di fare lo spettacolo, portati a considerare il loro ruolo entrando nel loro ruolo e entrando in contatto con quelli che sono le realtà, come nel caso specifico degli ospedali psichiatrici. Del resto anche Jack Nicholson, quando qualcuno volò sul nido del cuculo, ha seguito molto la vita in un manicomio per capire come doveva interpretare questi personaggi. È un metodo che viene appunto da quella scuola americana, ma è un metodo modernissimo. Guardare, fare un'indagine, un'inchiesta per poi capire e adattarla ai propri mezzi. E non credo che comunque sia il fare queste inchieste poi lasci un'impronta molto forte. Piuttosto penso che Jeanne Sieberg fosse una ragazza, appunto, comune, proprio come abbiamo detto prima a proposito dell'identificazione, è proprio perché è comune, molto esposta ai contraccolpi di un mondo che ti dà l'illusione di essere in un Olimpo e invece è molto spesso un mondo di dure realtà, di duri scontri. Vediamo ora l'impegno politico di Jeanne Sieberg, quando si trovò coinvolta nella causa delle lotte razziali portate avanti dai Black Panthers. Lì cominciarono per lei i guai grossi. Negli anni Sessanta negli Stati Uniti accadono due cose molto importanti. Una, a Berkeley l'inizio delle agitazioni studentesche, che poi rimbalzarono in Europa, in Germania, in maggio francese del 68 e contemporaneamente più o meno in Italia. e le insurrezioni dei neri in zone vicino alle grandi città, memorabile per esempio quella nel New Jersey. C'è un libro americano che si chiama Pastorale americano di Philip Roth, che racconta da vicino la storia di una ragazza figlia di ricchi benestanti del New Jersey che si mette con i terroristi neri. Questa storia secondo me ebbe, lo dice Roth in questo romanzo, una serie di imitazioni. Cioè fu un fatto in cui le lotte antirazziali, antirazziste per meglio dire, trovavano aderenti soprattutto in quei bianchi che in qualche modo si sentivano democratici, progressisti, detestavano appunto la discriminazione. Quindi non fu un caso isolato. Ci sono tanti casi di persone bianche che si misero dalla parte dei neri e quindi i giovani, suggestionati appunto dal fatto di quello che poi ci insegna la democrazia negli Stati Uniti, cioè quello all'ugaglianza, parteggiavano per loro, correndo anche i rischi di essere o di diventare alleati dei Black Panthers, che erano forse la punta più avanzata di una contestazione, di una protesta che era diventata a sua volta razzista verso l'uomo bianco. Quindi lei era sballottata in questa situazione e fesse una scelta politica, ma non fu la sola. Lei però poi da quel momento entrò nel mirino dell'FBI che le massacrò la vita. Sì, poi la macchina repressiva americana attraverso l'FBI o altre organizzazioni è molto forte. Diciamo che l'FBI ha sempre svolto un'azione molto risoluta. Ricordiamoci per esempio per quanto riguarda il mondo del cinema, a McCarthy in 1954 la Commissione per Attività Antiamericane, di fronte alla quale passarono tantissimi cineasti, addirittura anche personaggi artisti europei come Bertolt Brecht, che fu costretto ad ammettere, a dire anzi di non essere comunista quando era profondamente comunista, questo per poter scampare dai rigori che gli si prospettavano. Ecco, da quel momento in poi Gen Sieberg cominciò a fare uso di droghe e di farmaci, oppure c'era anche il peso insostenibile del successo che la portò a trovare lì un rifugio? Non sono mai mancate le droghe nel mondo del cinema. C'è chi è saputo difendersi, chi altri no. Probabilmente una persona assediata, come Gen Sieberg, dal problema di fare un cinema impegnato in Europa, dal problema di avere un'identità politica e nello stesso tempo di dover essere accettata dal pubblico, perché un attore vuole essere accettato dal pubblico, questo probabilmente l'ha resa più fragile e quindi più esposta a delle soluzioni che magari poi a lungo andare si sono rivelate negative e a sue spese. Veniamo alla morte di Gen Sieberg. Come abbiamo detto anche nello sceneggiato, i medici dissero che il tasso alcolico era talmente alto che da sola non sarebbe mai potuto andare in giro. Insomma, l'ipotesi, anche se lontana dell'omicidio, fu ventilata. Eppure non vi fu alcun seguito. Gen Sieberg fu subito sepolta e dimenticata da tutti, anche dai suoi amici dei Black Panthers. Eh, vede, perché poi questi personaggi diventano scomodi. Si ha fretta di sepellirli, un po' per non pensarci, un po' per liberarsi un po' di loro, del loro ricordo. Io tra l'altro rammento quello che disse Roman Garic, uno dei suoi mariti. Tra l'altro un uomo che era un uomo colto, uno scrittore, un uomo politico, e quindi un uomo che aveva un suo peso specifico. Parlò in maniera molto negativa di Gen Sieberg. All'inizio quasi sembrava che ne parlasse con malinconia, no? Senza rassegnazione, addolorata. Invece man mano che poi queste sue cose andavano avanti, queste sue dichiarazioni venivano a gala, si scopriva che era rimasto profondamente deluso. E forse perché le persone a volte si uniscono all'altra senza capire bene chi sono. Forse lui non l'ha conosciuta, Gen Sieberg. Succede spesso che le persone che si sposano con persone che sono eterne sconosciute accanto a loro. Specialmente con Gen Sieberg, ragazzina americana venuta alla scoperta dell'Europa con già un curriculum importante, professionale come attrice, finisce per cadere nelle spire di una situazione che diventa ogni giorno più grande di lei. E forse Romangheri non l'ha capita e lei probabilmente col falimento di questo matrimonio ha aggiunto ad altri falimenti o speranze troncate dai fatti o da una propria delusione, perché poi cominciò a lavorare in film sempre meno importanti. E quindi tanti film, non tantissimi, ma lei è morta anche relativamente giovane. Quindi un elemento in più di delusione e anche un desiderio di spegnersi. A volte è deliberato, anche se inconsapevole. Italo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vogliamo salutare i nostri ascoltatori? Molto volentieri. Diamo gli appuntamento per tante storie in giallo, che sono poi lo spettacolo del fascino, del mistero, cioè di quella parte della vita totalmente inilliminabile. Quindi insieme a te, volentieri, gli do appuntamento per tante altre belle, interessanti, affascinanti storie in giallo.